E' uova! Go go go! Gli ha fatto due ore e trenti chilometri E' poco No, non è che siamo stati tanto Tanto pieno E' una media dei sei chilometri all'ora E' poco La salita all'asfalto E' violenza! Destra, destra, giusto? Giusto Benvenuti Vendici Eh Che Non Vendici Ha Sì, sì, viva dritto. 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 Allora, qua... Prossimo incrocio fermatevi perché non mi è chiaro. Non so qual è che si fa per primo. Sì, allora...